...scrivono tu, non scrivi solo pezzi d'amore, ovviamente. Spesso utilizzi il tuo piloglio, un linguaggio scurrile quasi pornografico. Cito solo un passaggio di cenere tratto dal disco Il Vile, lo devo leggere perché altrimenti non lo ricordo. Tricorno sfonda Donna Piera, la cameriera tuba con la vagina, culo squattato sembra vera e si strofina il bello nella latrina. In un altro brano, sempre del Vile, dici... Non so se arrostirei. Adesso ho perso di più, perché in un altro brano del Vile, over flash, un lari a squarciacola, voglio una figlia blu. Dove sapere se l'hai trovata e a cosa pensavi. Mi chiascio l'ho detto domanda. Bravo! E' una cosa che è stata notata, quindi non posso neanche dire che non sempre...